La terza audienza per il processo a carico di Monsignor Enrico Radice, 71 anni, e di Don Gabriele Martinelli, 27enne, i due sacerdoti della Diocesi di Como, accusati di abusi nel preseminario a San Pio X, è durata circa due ore, ieri in Vaticano. Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha sentito nelle scorse ore soltanto Radice, Don Martinelli era assente in quanto si trova in Lombardia, zona rossa, e perché lavora in una RSA. Sarà sentito il 4 febbraio del prossimo anno. Secondo quanto riferito dall'Agenzia di Informazione SIR nel suo interrogatorio, Monsignor Radice ha ribadito di non aver mai saputo niente di quanto denunciato dalla vittima e che quest'ultima, assieme all'amico testimone, aveva agito per interessi economici. Lo stesso Monsignor Radice ha inoltre riferito che l'allora vescovo di Como Diego Coletti e il cardinale Angelo Camastri decisero di chiudere la vicenda, anche dopo averlo sentito, perché non si erano riscontrati elementi concreti. Nel pre-seminario, ha aggiunto Monsignor Radice, non ho mai visto o sentito parlare di abusi, rimanevo sveglio fino alle 23, 23.30 per assicurarmi che tutti entrassero nelle loro stanze, le pareti erano sottili, si poteva sentire tutto. Se qualcuno chiacchierava, ha aggiunto, dicevo dopo una certa ora di fare silenzio, nessuno mi ha mai riferito di abusi, né gli studenti, né gli insegnanti, né i genitori.